E seguiamo la luce contro l'hombre senza secondi intenzioni. Nel suo lungo discorso Francesco denuncia una certa tendenza a non agire, a delegare ad altri, a non affrontare il problema della fame, quando invece l'accesso al cibo è un diritto di tutti e pertanto va garantito. A preoccupare sono anche gli sprechi di cibo, un terzo della produzione totale, ma solo cambiando gli stili di vita si potranno meglio distribuire le risorse. La sobrietà, afferma il Papa, non si oppone allo sviluppo ma è una sua condizione. Inoltre bisogna considerare i prodotti della terra sacri perché è frutto del lavoro delle persone e non oggetti di speculazione finanziaria. Tra le preoccupazioni di Francesco c'è la scarsità di acqua e l'accaparamento delle terre coltivabili da parte di imprese transnazionali. Da qui l'invito alla FAO a tutelare il lavoro delle aziende familiari e agli Stati di regolare l'uso e la proprietà della terra per eliminare le diseguaglianze.